Waterworld è un colostale del 1995, diretto da Kevin Reynolds e interpretato da Kevin Costner, una coppia apparentemente consolidata, visto che i due avevano già lavorato assieme in altre tre produzioni, Fandango, Robin Hood principe dei ladri e Rapa Nui. All'epoca, Waterworld batte ogni record di budget e divenne il film più costoso di sempre fino a quel momento. Kevin Costner credeva moltissimo in Waterworld, tant'è che investì 22 milioni di dollari del suo patrimonio personale per coprodurre la pellicola. Il progetto era quindi molto ambizioso e svuotò le tasche anche della produzione, che spese ben 175 milioni di dollari per realizzarlo. Un'enormità! E pensate che all'interno di questa cifra non sono inclusi i costi di promozione e pubblicità. Infatti, il lancio del film fu supportato da un romanzo omonimo, un videogame, una serie di fumetti e tre attrazioni nei parchi di divertimento della Universal, senza dimenticarci del mitico Flipper. La sceneggiatura, prima di vedere la luce nella forma che conosciamo, è stata scritta e riscritta per 36 volte e da sei autori differenti. Inizialmente poi il regista doveva essere Robert Zemeckis, ma a un certo punto intervenne Kevin Costner che minacciò tutti dicendo o fate girare Waterworld al mio amico Kevin Reynolds oppure io mollo tutto e non vi do nemmeno i 22 milioni che vi avevo promesso e così la produzione dovete accettare. Però dimmi, hanno tutti il tuo caratteraccio quelli della tua razza? Nonostante i due si conoscessero molto bene, Costner portò all'esasperazione il suo piccola inquadratura finché un giorno non ne pote più e mollò il progetto lasciandolo totalmente nelle mani di Costner. Fu in seguito a questo episodio che Reynolds disse questa famosissima frase, Kevin Costner dovrebbe lavorare solamente nei film diretti da lui, in questo modo andrebbe d'accordo sia con il suo regista preferito che con il suo attore preferito, è sempre lui. Allora sai che se cerchi rogna ne troverai più di quanta ne vuoi. Kevin Costner quindi faceva un po' le bizze. Pensate chi chiese al team degli effetti speciali di nascondergli digitalmente la stempiatura, una cosa un po' difficile per le tecnologie di metà anni 90. Inoltre licenziò in tronco il compositore della colonna sonora perché così non gli piacevano le prime note, poi era intrattabile, cambiava sempre la sceneggiatura e non accettava mai un consiglio. Insomma sul set l'atmosfera era davvero ostile e non solamente per questi comportamenti da prima donna ma anche per una diversità di trattamenti tra l'attore e tutto il resto della troupe. Infatti i membri della troupe alloggiavano in condomini impopolari molto umidi e soggetti a forti sbalzi di temperature mentre Kevin Costner se la spassava in una splendida villa sul mare da 4.000 dollari a notte con il giordomo, cuoco personale e la piscina privata. Un altro, fanne due, questo signore è ricco abbastanza da pagare anche per me. L'economia della Hawaii dove venne girato il film guadagnò moltissimo grazie a Waterworld anche perché molti fornitori del luogo sapendo di essere l'unica scelta fecero dei prezzi altissimi. Il set fu allestito in un enorme bacino artificiale nell'oceano pacifico con un diametro di ben 400 metri. Per questa maestosa costruzione venne utilizzato tutto l'acciaio disponibile nell'Hawaii e quando finì si fu costretti a farlo arrivare in aereo dalla California. E l'abbiamo strato il cammino! Non ci crederete mai ma questo mastodontico set galleggiante aveva tutto tranne che una cosa, i servizi igienici si erano dimenticati di costruirli e non erano presenti nemmeno sulle imbarcazioni della produzione lì vicino e quindi cosa accadeva? Che ogni tot di tempo le riprese venivano stoppate per permettere a quei poveretti che avevano bisogno di venire trasportati a riva dove erano presenti alcuni bagni chimici. Noi moriremo qui, non è vero? Ultime rapide curiosità, il quadro che vediamo sulla petroliera del film rappresenta il capitano di una petroliera realmente esistito. Si chiamava Joseph Esselwood e nel 1989 venne accusato di negligenza per aver fatto schiantare la sua nave causando un disastro ambientale senza eguali, un caso che fece molto scalpore e che qui è tristemente omaggiato. Capitano San Gio, ci siamo! Inoltre fa piacere notare come in una grande produzione come Waterworld siano stati curati anche i piccoli dettagli. Uno di questi è il tatuaggio della piccola Enola. È stato scritto in caratteri cinesi che tradotti sono le coordinate quasi esatte del monte Everest. Infine Kevin Costner dichiarò che la cosa peggiore del film era il dover essere sempre bagnato e che per questo gli venivano gettate continuamente secchiate di acqua addosso. Per le scene pericolose poi rischiò più volte la vita, così chiamò Laird Hamilton come controfigura, un surfista professionista famosissimo. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come Waterworld.